E' salita a 5 la conta delle persone contagiate dal coronavirus in Puglia, dopo i tre casi registrati verso la fine della scorsa settimana nel comune di Torricella, in provincia di Taranto. Gli ultimi due sono quelli di un 29enne militare barese che vive e lavora in Lombardia, ed una 74enne di Ascoli Satriano, sorella di un uomo residente a Soresina, in provincia di Cremona, che dal 21 al 24 febbraio era stato in visita in Puglia. Il giovane si trova nel reparto malattie infettive del Policlinico di Bari. Rientrato nel capoluogo dal Nord Italia venerdì scorso, è stato colto da malore. Arrivato in ospedale è stato sottoposto a tampone faringeo. Risultato positivo, è stato messo in isolamento. L'ufficio di prevenzione dell'AS di Bari ha già avviato tutti gli accertamenti del caso per verificare le condizioni di salute di quanti hanno incontrato il militare negli ultimi giorni. Nessun ricovero al momento invece per la donna foggiana. Attualmente è in isolamento presso la propria abitazione, mentre le altre persone venuti in contatto con lei si trovano in quarantena presso rispettivi domicili. Il suo caso era già monitorato dall'AS di Foggia e circoscritto da qualche giorno da quando il sindaco di Ascoli Satriano, informato del possibile rischio contagio, con un'apposita ordinanza aveva disposto la quarantena per i soggetti interessati. Un altro fratello dell'anziana sottoposto a tampone è risultato negativo. Sono stazionari, infine, le condizioni dei primi tre contagiati in Puglia, vale a dire il 43enne di Torricella, rientrato lunedì scorso da Codogno, una delle zone focolaio, la moglie e il fratello dell'uomo. Il paziente 1 pugliese è ricoverato nel reparto malattie infettive dell'ospedale Moscati di Taranto. Le sue condizioni sono in netto miglioramento, ma sarà tenuto in osservazione sino a quando i tamponi non daranno risultato negativo. I suoi due familiari, positivi al virus ma asintomatici, si trovano invece in quarantena domiciliare. Stessa misura è stata disposta per motivi precauzionali anche nei confronti dei 131 passeggeri che hanno viaggiato con il 43enne sul volo EasyJet, partito da Milano Malpensa e atterrato a Brindisi. Per due settimane non potranno lasciare le loro abitazioni e avranno l'obbligo di segnalare eventuali sintomi sospetti. Tutti i casi che abbiamo rilevato sino ad oggi in Puglia, ha commentato il presidente Michele Emiliano, provengono dalla Lombardia e grazie al lavoro del nostro sistema sanitario e di prevenzione possiamo essere ottimisti sul fatto di averli circoscritti impedendo la loro ulteriore propagazione. Non sappiamo se ci saranno altre contaminazioni da fuori regione, ha concluso il governatore, ma se ciascuno di noi si comporterà in modo responsabile e prudente potremo ridurre moltissimo i rischi. Grazie a tutti.